L'incontro con liceo musicale Manzoni di Varese è stato fatto grazie anche alla professoressa Barbara Sgobbi che è la nostra musicoterapista. Noi da diversi anni facciamo musicoterapia all'interno del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del Ponte e questo permette proprio di attivare una serie di cure, di aiuto e di sostegno sia ai bambini che ai genitori che sono all'interno del reparto. Tutto questo percorso ha permesso proprio di incontrare il liceo musicale e attraverso la musica abbiamo costruito insieme un percorso e una serie di concerti che si sono svolti lo scorso anno e hanno portato e hanno sviluppato una serie di donazioni e grazie a queste donazioni che sono state date all'associazione d'incontro è stato possibile acquistare dei cuscini specifici per le incubatrici dei bambini che sono ricoverati all'interno del reparto.